Quello che fai tu è fastidiosissimo per il mio punto di vista. Tu hai la tua opinione. E' l'esplosione perché mi hanno invitata qui per esprimere le mie opinioni. Io dall'altra parte, siccome sto non con la coscienza a posto. No, tu non hai la coscienza a posto. Tu hai una presunzione infinita. Non mi interessa neanche quello che mi dici, onestamente. Da una parte mentre dall'altra mi esce. La regina del gorgonzola, al massimo della sua carriera le ha fatta la reginetta del gorgonzola per due anni. Ma tu puoi offendere, io sono talmente sicura di chi sono che le tue parole non mi... Ma il fatto è che tu sei sicura di quello che sei. Le tue parole non mi toccano. Ok, perfetto, allora te le esprimo. Tu sei sicura di quello che sei. E vabbè, sono quelle che le esprimo al pubblico. Non mi interessa. Io esprimo quello che penso della reginetta del gorgonzola. No, sono la burla del quartiere, tesoro. È convinta di poter dare dell'idiota, della deficiente, della maleducata. Se tu dici una cosa da idiota, io dico che sei un'idiota. E lo confermo e lo sottoscrivo, tesoro. Tesoro, sei un po' ingrassata, ultimamente comunque. Mi dispiace, dovresti fare un po' di paestra. Ho 20 centimetri più di te, amore. Stai cedendo al peso dell'età. Sì. E la nobiltà è andata. E anche più vecchia di me, amore. Anche la nobiltà è andata. È stupefacente. Non ho mai fatto un punto di foto, tesoro. Io sono lì lì il vagabondo, per cui tu non ti volti nemmeno a parlarci. Perché sei la tigre di Montpracen. Ma veramente, Samantha. Tutto quello che dici non mi tocca. Ma non me ne frega, io lo dico al pubblico. Pubblico, che figo, sono dentro la casa. Sono di nuovo nella casa. E c'ho davanti una stronza. Ed è bellissimo darle della stronza. Quanto sei signora, amore. Hai una classe pazzesca. Io sono una del popolo. Io sono una classe pazzesca.